Al Bano, protagonista indiscusso di Canale 5 è riuscito a far emozionare tutti i telespettatori Ma il pianto che ha più straziato il pubblico è stato quello di Romina Carrisi.Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina, si è lasciata andare in un pianto emozionale durante la diretta di ieri su Canale 5 Cosa le è accaduto?.Romina Carrisi, e i suoi genitori.Romina Junior è stata una delle protagoniste del programma evento televisivo Medias 55 Passi nel Sole, per celebrare i 55 anni di Al Bano, e della sua magica carriera Due puntate inedite e in diretta che hanno portato sul palco numerosi ospiti italiani che hanno arricchito e rallegrato le serate con la famiglia Carrisi Al Bano a fianco dell'ex moglie Romina, insieme alle figlie Cristel e Romina Junior hanno deliziato i fan con filmati inediti, canzoni di repertorio e tanti ricordi che hanno fatto emozionare Romina Carrisi piange in diretta.A proposito di emozioni, Romina Jr. non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta ieri sera, a causa di suo papà Albano Il cantante pugliese ha mostrato a tutti i film del matrimonio con la povera.Un momento ricco di amore e passione che solo quella coppia aveva e trasmetteva Romina Jr. è scoppiata in lacrime, raggiunta poi dalla sorella Cristel che l'ha abbracciata, raccontando di aver sempre avuto il desiderio di poter essere presenti durante quel giorno così speciale Un momento familiare molto toccante e destinato a non essere dimenticato A presto!